Per ogni fortuna c'è un reato. C'è un riciclaggio di denaro, un doleiro. E c'è un'anelma. In politica c'è un intero ecosistema per far circolare il denaro sporco. A causa della corruzione, delle tangenti e dei finanziamenti illeciti, si è formato un intero ecosistema di doleiro, di operatori finanziari che fanno girare il denaro nei circuiti illegali, fuori dal controllo della legge.